Gli attrezzi da lavoro, nel caso specifico le bici, sono stati messi da parte anche se per poche ore in occasione della serata di gala. Si è aperta così con una grande festa la nuova stagione per il Comitato Pugliese della Federazione Ciclistica Italiana e cominciata di recente a Corato con un appuntamento che ha coinvolto complessivamente 300 presenti tra atleti, accompagnatori, tecnici, giudici di gara e direttori sportivi della nostra regione. Ospiti d'eccezione sono stati il presidente federale Renato Di Rocco e il fuoriclasse Luca Mazzone, pluricampione paralimpico ed iridato. L'evento è servito per premiare gli atleti che si sono distinti a livello nazionale e non solo durante la scorsa esaltante stagione, consegnati anche premi individuali alla carriera, uno su tutti, quello andato al direttore sportivo andriese Nicola Perrotta della Terra di Puglia. Al termine dell'incontro promosso dal Comitato Regionale Pugliese e dal suo presidente Oronzo Simeone inoltre, è stata presentata l'attività relativa al 2018 agonistico, tante le realtà pugliesi e lucane che si presenteranno ai nastri di partenza della nuova stagione, con importanti ambizioni, in particolare il team project tra gli junior e gli under 23, il pedale elettrico tra i ciclomatori, team Eurobike e Ludo Bike tra gli esordienti e gli allievi e l'Andria Bike per quanto riguarda i giovanissimi e gli stessi esordienti. La parola dunque passa alla bici, la Puglia delle due ruote è pronta per continuare a stupire sul palcoscenico nazionale.